Stadio Allegretto di Montesarchio, 28esima giornata del campionato di eccellenza, come una finale, Montesarchio-San Vito Positano, uno spareggio per il terzo posto, 50 punti per i Beneventani, 52 per i Salernitani, ben trovati da Salvatore Grasso e Franco Pitaniello. Buongiorno e benvenuti a tutti. Sui esterni Tirelli e Donnarumma, Maccarone Palmieri, in serra, mezze ali, Fiorentino, unica punta. Beffi, lotta sul pallone. Agata a cercare la sponda di Liccardi per Beffi, l'aria di rigore! Alessio Beffi, 23esimo minuto, la sbloccata Alessio Beffi che segna il suo sedicesimo centro nel campionato. A saltare sul secondo palo, la palla è per lui, Liccardi! Montesarchio cerca il secondo gol per chiudere la gara e quindi giostrare a proprio piacimento la stessa, quindi in questo momento non demorde. Agata, pezza il tiro, la degnazione, palla in angolo. Montagna, punta Vallefoco, la Montagna prova a superare un Colosso ma gli nasconde il pallone, poi la scarica per Agata. Il cross basso, sul secondo palo, la palla passa, resta lì, un rimpallo e la palla è in rete. L'ultimo tocco, forse con la spalla di Liccardi che fa 23 in campionato e all'undicesimo minuto di questo secondo tempo chiude a chiave la partita. Sono appendite tante squadre e poi ricordiamo i due licuori vengono dalla cavese, quindi hanno già un passato importante. Nel frattempo avanza Beffi sulla sinistra, cross al centro. Il crocio dei pali di Liccardi che sfiora la tripletta. Lavora un buon pallone Liccardi, poi Agata con una magia. Beffi la mette a terra, ha atterrato, calcio di rigore. Calcio di rigore, Alessio Beffi ha messo a terra questo pallone. Sarà Beffi a calciare perché... Cartellino rosso, cartellino rosso all'indirizzo dell'autore del fallo. Parte Beffi che spiazza Munao e fa 17 in campionato al venticinquesimo minuto della ripresa. Montesarchio 4, San Vito Positano 0. Fitta rete di passaggi, non c'è pressing la parte del San Vito Positano che ovviamente ha tirato i remi in barca. Intanto Signore perde palla, la recupera, insiste in serra. Spallata con la montagna, attenzione al tacco che libera Fiorentino che va con il testo e trova un muro davanti a sé. È proprio Signore che riscatta l'errore. Resta in attacco il San Vito Positano, la palla sul primo palo. Primo tiro in porta Franco al novantaduesimo minuto. La parata di Campaniso, ma non c'è più tempo, finisce qui. 4 a 0 per il Montesarchio.